Si è conclusa con un corteo di biciclette partito dal liceo scientifico Carlo Cattaneo di Via Sostegno a Torino e diretto ai giardini Vito Scafidi di Piazza Chiaves, l'ottava giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, promossa dal fondo Vito Scafidi in collaborazione tra gli altri con Fondazione Benvenuti in Italia, ACMOS e Libera Piemonte. La giornata si era aperta con un'assemblea a cui erano presenti, oltre agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di sicurezza scolastica. La città metropolitana di Torino, che patrocinia come ogni anno l'iniziativa, era rappresentata dalla consigliera delegata all'istruzione Caterina Greco. Oggi, nella giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, è fondamentale dire che le risorse di città metropolitana di Torino, destinate per il PNRR, vanno quasi tutte esclusivamente per l'edilizia scolastica, alla sicurezza, a interventi sulla sicurezza nelle nostre scuole superiori. In particolare, per quanto riguarda la certificazione antisismica, per quanto riguarda l'adeguamento, i controsoffitti, piuttosto che i tetti, i serramenti e tutto quello che è l'adeguamento anche per le certificazioni antincendio. Quindi, devo dire la verità, sono risorse importanti, sono 105 milioni di euro, riguardano 66 interventi in 57 delle nostre scuole superiori. Ovviamente, non sono risorse sufficienti, seppur straordinarie, perché queste si vanno a sommare le risorse che città metropolitana destina ogni anno alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria e quello che ci aspettiamo in una giornata come questa, che risorse come quelle del PNRR diventino stabili per le scuole di tutta Italia, in modo tale che gli interventi che sono necessari siano adeguatamente finanziati anche per i prossimi anni a venire.